Buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce io sono Rossella Pani diciamo insegno le connessioni angeliche con l'arcangelo Michele e sono qui con Mimosa una donna speciale che ha partecipato al mio corso di connessioni angeliche e che si trova qui per lasciare la sua testimonianza allora Mimosa raccontaci un po' come è andato questo corso allora questo corso è andato benissimo sono molto molto felice di aver frequentato questo corso ho conosciuto vabbè te ti ho conosciuto anche prima e altre persone meravigliose anime meravigliose speciali che da ognuno di loro ho preso qualcosa di bello e sono felice di questo percorso proprio molto molto felice grazie Rossella ascolta raccontami un po praticamente tu abbiamo iniziato con l'utilizzo delle carte degli angeli poi abbiamo fatto la scrittura ispirata fino ad arrivare alla connessione diretta eh io ho notato che tu eri entusiasta eri molto contenta raccontaci un po' come è andato questo percorso questo percorso è andato bellissimo anche oggi mi veniva una riflessione eh perché io di arcangeli di questa cosa non sapevo niente pensavo perché io prima di conoscerti te mentre camminavo facevo qualcosa mentre facevo le foto io facevo le foto ma non vedevo niente quando una mia amica a un certo punto mi fa mai visto cosa c'è sulla foto dietro il sole c'è la figura di arcangelo michele ma lì non ci ho dato caso perché non lo so poi succede che su youtube ho trovato un video una preghiera di arcangelo michele che lo facevo tutte le sere tutte le mattine che mi faceva star bene mettevo le cuffie lo sentivo poi eh fatto sta che su facebook sentivo la tua voce è uscito un video tuo e da lì poi è collegato la preghiera sì certo che bello e ho fatto anche questi percorsi qua con te e oggi mi veniva questa riflessione diceva lì per lì non non li accogliamo i segni che ci sono però poi dopo viene tutto si si completa tutto quello che c'è da un po come da felice sono felice anch'io eh hai lavorato tantissimo con le altre ragazze perché vi ho fatto fare tanta pratica sia con le carte con la scrittura ispirata come è andata la canalizzazione raccontaci un po allora che la canalizzazione è andato benissimo io un certo punto in un giorno ho avuto un po di dubbi perché dicevo ma sono capace di fare questo questo percorso e la risposta mi è venuto subito perché anche te anche una delle ragazze poi dopo che abbiamo lavorato insieme me l'ha dato la risposta giusta che vuol dire di sì perché poi dopo anche quanto canalizzavo mi veniva tutto liberamente tranquilla serena sì 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 quindi i messaggi erano reali erano veritieri i messaggi erano reali mi sono trovato benissimo con le ragazze proprio bene bene guarda hai sentito la presenza degli angeli e dell'arcangelo michele in questo lavoro energetico certo e come raccontava anche il nostro gruppo che io anche nel sono te l'ho detto la settimana scorsa ho sognato o anche ho visto non so come spiegare un attimo se ero circondata da tutti questi luci angeli così che canalizzavo canalizzava per le persone tanto e poi alla fine ho canalizzato per me stessa è stata una sensazione bellissima che meraviglia ascolta cosa cosa puoi dire a proposito mimosa io insegno la canalizzazione sì però c'è un grande lavoro come tu sai di preghiera di purificazione di radicamento meditazione liberazione tu cosa pensi di tutto questo lavoro come preparazione energetica per canalizzare io penso che la preghiera ci vuole anche meditazione perché io non faccio meditazione da cinque anni e questo meditazione la cosa più bella anche le preghiere io faccio al mattino faccio le tue preghiere quello di tutti i giorni e faccio anche quella per la pulizia di casa ogni mattina faccio questo e si serve per proteggere noi noi stessi ma anche le persone con chi noi poi dopo abbiamo a che fare ma anche quella natura con animali anche con i nostri pensieri poi dopo di stare tutto il giorno nelle vibrazioni più alti che ci siano assolutamente l'ultima domanda a chi consiglieresti questo percorso a tutte le persone che lo sentano questa vibrazione e che non devono tirare indietro ma seguire il loro istinto il loro cuore bene ti ringrazio mimosa cara grazie per questa testimonianza meravigliosa io ti abbraccio ti auguro un cammino pieno di luce e di amore che tu possa portare i messaggi degli angeli a tutte le persone che aiuterai nel tuo lavoro veramente il mio augurio per grazie grazie anche a te grazie a tutti ciao buona serata grazie buona serata